Allora siamo con il signor Giuliani, commerciante che prima del terremoto era come tanti altri in Piazza Duomo, oggi il signor Giuliani si trova qui su Viale Beato Cesidio, quartiere Santa Barbara e ha da dirci uno dei tanti problemi che deve affrontare che è quello della nuova zona in cui verranno messi a breve i commercianti di Piazza Duomo, la Piazza Darmi ma il signor Giuliani ha delle cose da dire in merito? Niente, questo che praticamente il mercato a noi ci sta bene tutto quanto se fosse stato fatto nei modi come dovrebbe essere fatto nel senso che con un parcheggio, con una via d'accesso adeguata, lì non è adeguato perché non c'è un parcheggio, non c'è una via d'accesso adeguata e quindi ci troveremo meglio dove stiamo, dove siamo stati fino adesso dopo il terremoto se ci devono ricollegare lì ci dovrebbero rimettere in una maniera giusta, nel senso con un parcheggio con una strada d'accesso adeguata a quello che conforma le regole e quindi noi, almeno noi della frutta, siccome la frutta è un articolo qualcosa che scade dopo poco tempo se non viene venduta si rovina e noi qui adesso dopo i tre anni del terremoto ci troviamo nel senso che ci siamo rifatti una clientera, una cosa lì è tutto da ricominciare ma da ricominciare che lì non si ricomincia perché se non c'è un parcheggio, la via d'accesso, la gente non ci viene e noi la roba la buttiamo tutto lì ma questo è mio il discorso e di tutti gli altri commercianti che vendono frutta poi c'è chi è d'accordo con le scarpe e i vestiti ma quella è roba che non si rovina e noi vorremmo finché non viene fatto come dovrebbe essere fatto con i dovuti parcheggi la via d'accesso come si deve e restare dove stiamo invece il sindaco Celente la scorsa settimana ha detto chi vuole cominciare a fare la domanda per piazza d'armi può farlo ma chi si ci può stare che magari non vende, vende poco e la roba non gli si rovina tipo scarpe, abbigliamento, sta cosa, lo può fare ma noi della frutta non si può fare perché è troppo delicato l'articolo questa è roba che dopo due giorni, massimo tre, la butti e noi non possiamo stare a quelle condizioni il signor Marchitelli è nelle stesse condizioni? sì, su per giù, io ci tengo prima a precisare che io sono uno dei più vetti commercianti perché sto alla piazza dell'Aquila dal 1951 lei ha giusto gli orologi vero? sì, io adesso ha giusto gli orologi però dopo il terremoto mi sono venuto a mettere qui dalle 5 alla mattina e fino a oggi ho patito la fame ho patito quello che tutti patiscono i commercianti perché quando passano da una parte all'altra adesso che mi sto a fare un po' di clienti me ne devo andare lì però ci tengo pure a precisare perché io ho un gioschetto di legno e non lo posso lasciare lì perché se lo devo lasciare lì non lo posso portare a nessuna parte se me lo fanno lasciare là giorno e notte allora può darsi pure che ci possa andare però se non me lo fanno lasciare io non so come fare perché quello non è trasportabile a dove lo trasporto lì non c'è un magazzino non c'è niente quando stavo in piazza c'aveva il magazzino lo prendevo dalla piazza e lo portavo al magazzino ma qui non c'è niente e come posso fare? io mi alzarei 5 alla mattina e vengo qua giusto per sbarcare il lunario perché oggi giorno non si fa più niente stiamo a patire la fame perché io con mia moglie ho la moglie che non sta bene e devo comprare medicina, devo comprare quella e quell'altra e a quanto riesco a fare i soldi giusto il giorno per mangiare giusto per vivere e tirare avanti con me e mia moglie perché se dare una pensione minima e ci pago solo la casa con la pensione che ci danno ci pago la casa e tre bollette e finita la pensione non vedo nemmeno un euro dalla pensione io e devo sbarcare il lunario da dove sto qua mi alzoi 5 alla mattina per cercare di fare qualche cosa per comprare la roba da mangiare perché se no io e mia moglie non manciamo il giorno tutto l'altro